E benvenute, bentrovate gentilissime telespettatrici e gentilissimi telespettatori anche questa mattina primo lunedì di ottobre, lunedì 7 2024, siamo come sempre in diretta, sono le 7.20 a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi informati con i principali titoli dei due quotidiani regionali, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Il nostro regista Andrea Marcelli questa mattina ci porta sul Monte Carpegna, in particolare una veduta dal Parco del Sasso Simone e Simoncello, quindi siamo nel cuore del Monte Feltro e come vedete la giornata è alquanto piacevole anche perché il meteo che viene indicato ora in sovraimpressione ci propone delle temperature sicuramente in linea con questo inizio di autunno, si parte adesso da una minima di 12-13 gradi, si arriverà come vedete intorno alle 15 nonostante la nuvolosità intorno ai 21 gradi e 8, quindi sicuramente una temperatura molto piacevole, tutta da godere. Questo è il quadro sinottico, come dicono i grandi meteorologi della nostra regione, cielo lievemente annuvolato sia durante la mattinata che nel pomeriggio, qualche precipitazione probabile sulla fascia montana della regione. Partiamo dal Corriere Adriatico con le notizie in prima pagina, con il nuovo asilo gara per 10, stiamo parlando della struttura alla Torraccia, i cui lavori dovrebbero partire entro la fine del mese, il comune è chiamato ad affrontare anche il nodo della viabilità. La foto copertina è dedicata al successo della VL che ieri ha piegato sul finale a Vellino conseguendo la seconda vittoria in questo campionato, quindi 4 punti in 3 gare, bene anche il Fossombrone che ha pareggiato 2 a 2 nel campionato di Serie D contro la corazzata San Benedettese, mantenendo la terza posizione a 9 punti. Nei tre box sotto la foto copertina, l'amianto, il presidente della Commissione Ambiente, Lorenzo Lugli, il pentastellato, ha convocato la Commissione per avviare un monitoraggio dei siti in cui ancora presente l'amianto nella nostra comune. Saluta Viale della Repubblica la mostra dei fiori, Biancani annuncia che nel 2025 tornerà nei tradizionali stalli di Piazza del Popolo e ad Apecchio durante la mostra Mercato del Tartuffo Bianco i ladri impazzano durante il concerto dei Mattia Bazzarra e svaliggiano ben due case tentando di forzarne anche altre. Caos al corteo pro-Palestina, quello di sabato a Roma, è stato arrestato un studente marchigiano che si era laureato all'Università di Urbino e un 24enne del sud delle Marche, arrestato, processato questa mattina alle 9 per direttissima a causa dell'aggressione alle forze dell'ordine. E poi per il caso della invalida sfrattata la scorsa settimana da Via Giansanti è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni per la spalla. Queste le notizie del Corriere Adriatico sulle quali torneremo fra poco, invece l'edizione light del resto del Carlino ci propone alcune riflessioni sul turismo d'autunno per bocca di alcuni guru del nostro turismo pesarese, l'effetto capitale frenato dal meteo, poi il festival del giornalismo che si è appena concluso ad Urbino in cui le donne sono state protagoniste in assoluto e il caos della Proloco, anche qui affidamenti allegri a Fano sull'onda di quello che sta succedendo qui a Pesaro, fiume di soldi ma nessuna segnalazione. Prima di addentrarci nella lettura delle pagine interne dei due quotidiani ricordo il nostro numero di Whatsapp per interagire con noi, 370-366-7210, lo vedete anche in sovraimpressione, potete mandarci degli scorci dalla vostra abitazione, appunto un paesaggio, un'alba sorridente, quella che avete potuto assistere stamattina o qualche foto curiosa, ma potete naturalmente anche commentare su Facebook, lo fate ogni mattina, leggeremo sicuramente le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti più interessanti. Partiamo appunto dal caso Proloco di Fano, parla fiume di soldi per anni, nessuno segnalò anomalie, parla Scoppellitti, l'ex presidente della commissione garanzia, nel 2020 Lucarelli era assessore, il socio Bartolucci guidava l'associazione, si tratta di 250 mila euro l'anno che da un comune di Fano arrivavano a Tre Ponti che era appunto la sede dell'associazione, nessuno ha mai obiettato nulla, finché l'ex vice sindaco Marcheggiani non ha denunciato sul Carlino l'inopportunità politica in merito al fatto che l'ex assessore al turismo Etienne Lucatrelli, già presidente della Proloco, avesse sempre dato una delega in bianco all'associazione di cui continuava a fare attivamente parte, l'associazione che sebbene avesse cambiato più volte presidente, faceva sempre riferimento a Gino Bartolucci, e qui casca l'asino, socio d'affari di Lucarelli. Parla Francesco Panaroni, consigliere d'opposizione 5 Stelle, abbiamo iniziato a guardare come avvenivano fatte le cose, ma non c'era nulla di illecito. Anche perché poi nel primo anno di mandato di Lucarelli, come c'è scritto sopra nel 2020, il presidente era ancora Bartolucci. A questo proposito il rapporto era talmente palese che non veniva neanche da indagare, in realtà non sappiamo se poi le cose, dice Panaroni, siano andate esattamente così, è ora di cominciare a domandarselo, quindi vedremo se l'inchiesta Affidamenti Allegri da Fano avrà un tentacolo anche a Pesaro. Il plauso intanto a Pesaro della città per le campionese regionali del volley, categoria under 13, ieri ricevute in comune premiate dal sindaco Biancani. Andiamo a parlare appunto di turismo, Pesaro 2024, il turismo alberghiero in autunno non vola, le presenze sono in linea con il passato, l'effetto capitale della cultura si è smorzato, ottobre e novembre sono due momenti e due mesi preoccupanti per i flussi turistici. Parla Fabrizio Oliva, titolare dell'hotel Caravell, ex presidente dell'associazione pesarese albergatori, sicuramente il traino di Pesaro capitale della cultura ha portato in questi giorni all'auditorium Scavolini 1500 persone grazie al convegno dell'ordine nazionale dei commercialisti. In giro per Pesaro, grazie a un tour operator pesarese, notiamo un migliaio di presenze in circa tre settimane da parte di turisti austriaci. Poi abbiamo la festa dei Kral, circoli ricreativi aziendali con circa 500 presenze. Ma Oliva sottolinea come per i tour operator ci si scontri espresso con troppa rigidità e burocrazia, mentre gli altri eventi sono sempre gli stessi. Alcuni hotel hanno già chiuso i battenti per la scarsità di richieste in arrivo. Tranne l'imperial sport di Roberto Sangherini, invece il quale sottolinea come tante iniziative hanno portato turisti grazie alla capitale della cultura, ma bisogna fare di più anche in ottica di promozione ed accoglienza. L'anno della cultura ha portato far conoscere Pesaro, è stata una bella cassa di risonanza, ma bisogna far sì che la città non sia soltanto una meta balneare, ma legarla maggiormente anche con l'entroterra. Questo è il pensiero del Presidente dell'Associazione Albergatori, Marco Filippetti. Intanto in piazza spopola il vernacolo, il dialetto di renta protagonista. In questi ultimi giorni dando il là a una serie di iniziative in cui rivalorizzare la pesaresità e la nostra lingua comune e ieri bagno di folla con la piazza gremita di appassionati del vernacolo grazie allo show di Carlo Pagnini e di Franca Mercantini. Festival del giornalismo a Urbino, le donne protagoniste a tutto campo. Si è conclusa la tre giorni con uno sguardo dedicato al gentil sesso, sulla cultura, sul giornalismo naturalmente e anche sull'arte e l'architettura. Sono state giornate faticose, ma è stato bello incontrare persone, stare con loro per discutere e confrontarsi. La partecipazione è stata molto forte e tante le voci per capire il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, non solo del giornalismo. A Pergola si inaugura la mostra a mercato del tartufo bianco alla presenza del governatore delle Marche Acquaroli, un bagno di folla, si parla di 20.000 persone che ieri hanno raggiunto il comune dell'entroterra. Acquaroli naturalmente è stato il testimonial di eccezione, sottolineando come non sono importanti soltanto le infrastrutture, ma anche il sostegno alla piccola e media impresa, all'agricoltura, all'artigianato, alla manifattura, che vogliono capire e avere la consapevolezza che le istituzioni sono al loro fianco. Quindi giornata di battesimo di questa ventisettesima edizione, una kermesse che ha portato gente da tutta Italia, dice nell'articolo Sandro Franceschetti, sold out del treno storico, tantissimo il fiume di persone per le vie del centro e tanti spettacoli, tra cui il concerto di Johnson Rigueira. Questo a Pergola. Adesso passiamo al Corriere Adriatico, alle pagine interne. Partiamo dall'asilo alla Torraccia, sono 10 le imprese in gara, il lunedì il Corriere Adriatico dedica il suo focus sempre all'edilizia o al turismo, questa volta appunto è la struttura da 90 posti che sorgerà alla Torraccia che vede la partecipazione di 10 imprese con una deadline molto stringente, si tratta di terminare i lavori in un anno e mezzo, ovvero 456 giorni, scusate, in 13 mesi, quindi è molto stringente il tempo. Il cronoprogramma è imposto, come sappiamo, dai fondi del PNRR e entro il 31 ottobre dovrà essere notificata la ditta che risulterà vincitrice del bando. La procedura dell'assegnazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo. L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre, questo è il cronoprogramma che è previsto appunto per l'asilo, come lo potete vedere anche dal box in alto e la conclusione dei lavori è prevista entro il 31 marzo del 2026, poi altri tre mesi entro il 30 giugno per il collaudo, quindi 15 mesi per arrivare al termine dei lavori. Sarà un asilo calibrato per accogliere 90 piccoli in un'area tra via degli abeti, via dei frassini, via dei tigli, già serviti dalle linee dell'Adria Busse confermate a beneficio di famiglie e utenti. Il comune dovrà naturalmente mettere mano anche alla viabilità in questo snodo della torraccia sempre trafficato. Tra l'altro il nuovo nido è stato anche al centro di un accordo siglato con la curia Arcivescovile dato che quell'area di torraccia era stata giudicata interessante per realizzarvi un nuovo luogo di culto e aggregazione. A proposito di aggregazione si celebra nuovamente il gemellaggio tra i licei musicali di Pesaro e quelli di Weimar in Germania, è stato come vedete il sindaco Vivini ad accogliere la comitiva di piccoli musicisti in erba del liceo Schloss Belvedere Musik Gymnasium di Weimar, un gemellaggio nato tra le due scuole consolidato da anni di collaborazione e da concerti scambio con formazioni miste. Parte anche il progetto della generazione Z alla scoperta della città, è un progetto di mobilità creativa condotto con allievi e docenti delle scuole di Pesaro e Fano. È un esperimento di antropologia urbana che si richiama agli studi di comunità del primo novecento, quando le metropoli americane incarnavano lo spirito dei tempi e i ricercatori aprivano una nuova frontiera degli studi sociali. I gruppi si sposteranno a piedi in bicicletta con i mezzi pubblici lungo itinerari programmati che saranno chiamati a riconoscere o scoprire con uno sguardo e poi a menzionarlo. Quindi l'uso della voce diciamo che è al centro di questo progetto visto che oggigiorno stampando il proprio viso di continuo sullo smartphone i giovani stanno anche perdendo il gusto di comunicare tra di loro. Questo racconto poi diventerà un podcast che grazie alla collaborazione con Rai e Rai Play Sound andrà in onda a dicembre e a modellarlo sarà l'officina autogestita dai protagonisti del progetto. Lorenzo Lugli, consigliere comunale dei Cinque Stelle, invita ad una bonifica urgente grazie a un monitoraggio delle installazioni, delle strutture in cui è presente l'amianto, in particolare diversi capannoni industriali dismessi ma anche immobili e la commissione ambiente verrà chiamata a relazionare anche marche multiservizi sullo stato delle tubazioni idriche. L'obiettivo come dice Lugli che vediamo nella fotografia è quello di arrivare a siglare specifici protocolli di intesa fra le parti soprattutto per monitorare quelle strutture che hanno bisogno di una manutenzione periodica e ci sono contributi a fondo perduto stanziati dal comune che permettono ai privati di essere aiutati al 50% qualora volessero rimuovere e smaltire manufatti contenenti amianto il bando è partito il 19 agosto e scadrà il 15 di novembre. Dieci giorni di prognosi all'invalida sfrattata con la forza, stiamo parlando di Monica Caroni che l'altra mattina appunto con un ingente impiego di Vigi del Fuoco, Forza dell'Ordine, Ambulanza è stata sfrattata con la forza dalla sua casa di via Gian Santi poi venduta all'asta. Il dolore alla spalla l'ha costretta ad andare al pronto soccorso dove è stato effettuato il primo accertamento e gli è stata ignottata un antidolorifico che l'ha portata poi ad una prognosi appunto di dieci giorni e Monica adesso ha trascorso le ultime due notti nell'albergo poi entrata in una casa che gli ha messo a disposizione la sorella. E la mostra dei fiori saluta il mare e la prossima edizione tornerà in centro, lo ha annunciato ieri il sindaco Andrea Biancani. Una folla, una marea di gente ieri mattina grazie anche al bel tempo si è recata lungo Viale della Repubblica fin dalle prime ore dell'alba e alla fine comunque grazie a questi due giorni di tregua si è recuperato sicuramente quanto si era perso nei giorni precedenti a causa del maltempo. Si torna in Piazza del Popolo, come ho detto, lo ha annunciato il sindaco Biancani probabilmente preoccupato per la viabilità e la logistica che ha compromesso l'utilizzo delle arterie del lungomare causando delle lunghissime code in Viale della Vittoria, ovvero lungo la Statale 16. Bellissima l'immagine che ci manda Roberto Tommasoli dal Trebi Antico verso Fano alle 6.35, questa l'alba di un nuovo giorno scattata pochi minuti fa dal suo smartphone. Grazie Roberto per inviarci questa foto, come anche il cane Zelda che arriva da Villa Betti di Pesaro. Bellissima anche questa immagine, anche i nostri amici a quattro zampe ci seguono tutte le mattine con la nostra rassegna stampa, quindi grazie alla nostra ascoltatrice. San Lorenzo in campo diventa capitale della cultura e la settimana 50x50, il programma si intitola sulle note della tradizione e fino al 13 di ottobre coniugherà la musica con l'arte, la storia, la poesia e i sapori della tradizione. Una settimana a 360 gradi che toccherà tutti i temi principali del dossier e Pesaro 2024 coinvolgendo anche le giovani generazioni con un modello che riguarda oltre il 2024 creando un flusso di turismo interno. E' la settimana di Don Gaudiano, sono 31, pensate gli anni trascorsi, mi sembra ieri, dalla sua scomparsa. Pesaro ricorderà la figura dell'immenso Don Gianfranco Gaudiano. Si chiama giornata della solidarietà e coincide con l'anniversario della morte del prete che negli ultimi anni è stata la figura simbolo di Pesaro e della solidarietà, ispiratore di un sistema sociale di aiuto e di ascolto che il comune nel frattempo ha fatto proprio. Quest'anno sono coinvolti otto istituto, 19 classi. L'appuntamento è il 10 ottobre, alla mattina allo sperimentale, da 9 a 3.13 con la presentazione del progetto Oltre l'indifferenza, una prevenzione contro la tossicodipendenza. Mentre nel pomeriggio a Palazzo Montani Antaldi verrà presentato dal collega Alberto Prancrazzi il convegno Cosa fa il CEIS di Pesaro per questa città. Quindi appuntamento a giovedì 10 ottobre. Veniamo ad Apecchio, lo dicevamo in apertura, durante la mostra a mercato del tartufo bianco quella che si contrappone a Pergola dove era presente il governatore delle marche Acquaroli e qui a Fano, da Apecchio scusate, erano presenti dei ladri che hanno devastato un paio di abitazioni svaliggiando con un certo quantitativo di oro, gioielli e soldi le case dei malcapitati che nel frattempo impazzavano tra le vie del centro di Apecchio. I ladri hanno scassinato, come si compare anche nelle fotografie dell'articolo le porte di legno, grandi segni di effrazioni, hanno devastato armadi gettando tutto sui letti il frutto del bottino nel primo appartamento è di 400 euro più tutto l'oro appartenente alla famiglia, nel secondo appartamento invece un migliaio di euro. durante lo show dei Mattia Bazzar, come è riportato dall'articolo adesso a parte l'incursione purtroppo dei ladri che ha contraddistinto la cronaca di Urbino del Corriere Adriatico, la mostra a mercato del tartufo di Apecchio è stata un successo la giornata di ieri, tantissima la gente con i Mattia Bazzar che appunto vedete, ovviamente una formazione non certo originale comunque hanno riso protagonista Apecchio ieri con il loro spettacolo e con una festa finale dedicata al messaggio di amore e sono stati incoronati anche Re Tartufo 2024. Veniamo alla cronaca di Fano, si parla degli scavi di via Vitruvio e la voce viene affidata al proprietario della ditta di imprese che aveva iniziato questo cammino oggigiorno interminabile il cantiere, lo sappiamo benissimo, è bloccato parla appunto Paolo Antonioni, un iter che si era avviato con la sovraintendenza poi è stato coinvolto il Ministero dei Beni Culturali poi il Ministero dell'Economia e della Finanza l'Agenzia del Territorio Regionale lo ricordiamo, i primi ritrovamenti erano stati effettuati a gennaio del 2023 e la zona adesso è completamente bloccata e si aspetta l'iter ministeriale che venga concluso al più presto con le indagini e si possa almeno trovare una soluzione ed è stata presentata nel frattempo dal Centro Studi Vitruviani nella Sala della Cultura di Palazzo Nolfi la carta archeologica del centro di Fano uno strumento di fondamentale importanza per avere una visione d'insieme di tutto ciò che fino ad oggi è stato scoperto a Fano quanto conserva la città dei secoli passati per meglio tutelare, gestire e promuovere l'immagine della città immagine della città che in questi giorni è stata invece contraddistinta dal dengue e parte la seconda disinfestazione della zanzara tigre a partire dalla mezzanotte ieri sera c'è stata la prima e questa sera la seconda nelle aree centrali di Fano che coinvolgeranno Gimarra, Trave, Paleotta, Poderino, San Cristoforo, Don Gentili ed altre zone della città coinvolte quattro ditte con ben tre mezzi Ascensore fuori uso, infiltrazioni, troppi disagi alla Sala della Cultura il presidente dell'Università dei Saperi chiede un intervento urgente nella sede di Palazzo Nolfi e la Confesercenti di Gabiccia inaugura un nuovo sede un appunto di partenza nella città al confine con la Romagna e poi la notizia che avevamo dato in apertura al Conteo Pro Palestina ha arrestato un marchigiano Tiziano Lovisolo di 24 anni che avrebbe picchiato un poliziotto si è laureato a Urbino come vedete nella foto qui in basso appassionato di politica internazionale adesso ovviamente lo difendono in primis la sorella è stato manganellato vedremo come andrà a finire il processo era questa l'ultima notizia prima di passare alle pagine sportive del lunedì che sono abbastanza corpose partiamo dalla Vis la Vis che sabato sera ha pareggiato in Liguria a Sestri Levante 1 a 1 una partita molto maschia molto dura di altri tempi 9 ammunizioni e 2 espulsi anche il mister Stellone che ha rilasciato poi i commenti al vetriolo e rischia un lungo stop a causa di una squalifica lo ricordiamo non ha risparmiato certo critiche all'arbitro che ha diretto il match Stellone fa i complimenti ai ragazzi per l'ottimo primo tempo sono stati tanti gli episodi contro così come i punti non conquistati e invece ieri Gran Derby a Fossombrone parliamo di Serie D parliamo della squadra allenata di Mister Fucili contro l'ambiziosa San Benedettese sotto per ben due volte i locali riescono a recuperare grazie alle reti di Casolla e Broso un sold out sugli spalti guardate anche la bella coreografia dedicata al giovane Francesco Bernabucci il supporter dei Biancazzurri sempre presente in curva che purtroppo si è spento recentemente per un male incurabile i suoi compagni gli hanno dedicato questa meravigliosa coreografia che ha commosso anche i tifosi e ospiti che hanno riempito le tribune dello stadio di Fossombrone soddisfatto il tecnico Fucili non abbiamo mollato due volte hanno recuperato appunto sulla San Benedettese la squadra ha dimostrato di avere gli attributi ha veramente gli attributi il Fossombrone perché lo vediamo in classifica com'è allineato a nove punti quindi è terza dietro il Chieti a dodici e poi tre squadre a dieci punti la Vigor Senigalli all'Ascoli Atletico Ascoli scusate l'Aquila e poi appunto il Fossombrone segue insieme alla San Benedettese e all'Ancona invece tornando alla Vis la posizione è ora abbastanza buona 11 punti con tre vittorie due Parigi e tre sconfitte dove si va? si va domenica in casa al Benelli contro il Pineto alle ore 17.30 mentre il Fossombrone andrà a casa della Civitanovese per l'ennesimo derby Marchigiano torniamo invece sul Carlino con l'articolo della nostra Bettaferri che poi ci parlerà ampiamente della vittoria contro Avellino giovedì durante insieme a Canestro la quinta stagione lo ricordiamo ieri la VL ha sconfitto i Campani al termine di una vera e propria battaglia risoltasi sul rush finale Avellino che si era opposta grazie all'ex Mussini ma stavolta i lunghi di Pesaro funzionano e la VL vince lo scontro a rimbalzo adesso la posizione in classifica con quattro punti ride meglio agli uomini di coach Sacripanti il quale in sala stampa ha espressamente riconosciuto di voler cambiare dopo la brutta impressione che avevamo lasciato nella precedente partita interna ai ragazzi negli spogliatoi ho detto che abbiamo la fortuna di avere tifosi che dopo la brutta prestazione di mercoledì ci stanno ancora sostenendo dobbiamo tuffarci su tutti i palloni in modo che la gente ci possa spingere in partite così ruvide ce ne saranno tante il fattore campo ha ben donde di ragionare su questo fatto il fattore campo può fare la differenza l'eroe di giornata è Lombardi l'ho detto prima 28 punti una vera e propria furia se Pesaro non ha preso nessuna imbarcata il merito è suo finisce con 8 su 11 da sotto 4 su 4 da 2 ha portato a casa anche 8 rimbalzi se poi lo si fa correre diventa un grosso problema per tutti e lo sarebbe anche in Serie A queste le valutazioni appunto di Maurizio Gennari a proposito della partita della VL era questa l'ultima notizia andiamo a dare un'occhiata al palizzesto di Rossini TV per questa sera si parte adesso per questa sera per questa giornata si parte adesso alle 8 con la natura della cultura il magazine di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura e come accennato il focus è su San Lorenzo in campo capitale 50 per 50 la replica poi in sovraimpressione alle 21 potremo rivedere la partita della Carpegna Prosciutto contro Avellino quindi differita lo sappiamo tutti ormai Rossini TV e televisione ufficiale dei Biancorossi per cui la partita viene riproposta questa sera con la telecronaca di Michele Zavagnini l'informazione è in diretta alle 19.30 questa sera il nostro staff giornalistico vi accompagnerà raccontandovi i principali fatti di giornata la prima edizione alle 19.30 poi le repliche alle 20.30 23.30 e mezzanotte e mezza vi lascio alle previsioni del tempo con l'augurio di trascorrere una bellissima settimana sempre e soltanto in compagnia di Rossini TV e soltanto